questo si è girato che sfiga oh sì guardate che figata che sfiga dai che lo becco l'altro si fa i fattacci su e si diciamo che come intelligenza artificiale proprio non è che che brilli bro stai fermo che ti miro così ok benissimo abbiamo fatto pulizia filiore adesso ci andiamo a raccattare tutto quello che c'è qua nei dintorni o come mi piace raccattare benissimo ci siamo presi tutta l'energia cuba si si chiama così mi sembra di sì ora andiamo a vedere qua ci spacchiamo via tutte ste casse che sono da spaccare si legno e chiodi ci danno bene queste anche fai tutto mio tutto mio sì mi prendo cura di me stesso a per prendere cura di me stesso ci vorrebbe un bel centone una bella spogliarellista e un bicchiere di birra così giusto per quante belle cose da che ci sfottiamo pure la hi fi dai la musica c'è adesso ci manca solo la cubista sacco di juta e argilla vai tutto mio mio non so cosa cacchio mi potranno mai servire però si raccoglie nei survival siamo una sorta di aspirapolvere noi passiamo aspiriamo tutto qua non posso entrare no guardate come posso sbirciare dietro l'angolo ma che figata si grazie se davvero molto di aiuto allora io devo salire qua sopra ok che ci siamo entrati ora fottiamoci sta memoria space ok molto bene è ora succede qualcosa no ok sincronizziamo vabbè dai sto video ce lo potevano anche evitare così allora vediamo ci fottiamo tutto quello che c'è da fotterci ci siamo messi una una sedia nello zaino figliuoli e non per dire altri sacchi di juta vai cassa distruggiamoci pure sta cassa ok adesso capire come salire qua sopra perché vedo che c'è un altro segnalino non è quello che ho messo io per caso no forse sì perché sono fuori dalla mappa fatemi della mappa cacchio ma dai allora entere per rimuovere vediamo sì in effetti non c'è più ok possiamo andare cavolo figliuoli c'ho sete io onestamente non ho nulla da bere o credo ok abbiamo una bottiglia di acqua pulita quindi ce la beviamo che proprio l'ultima che c'è rimasta ritorniamo c'è veramente bisogna bere di continuo ok ci ha messo in magazzino tutto quello che abbiamo raccolto ok ci aggiorna la mappa molto bene sì l'abbiamo già dato l'occhiata la mappa dai cosa ci sarà mai di nuovo ok che figata mi fa vedere tutte le posizioni che ho percorso sti puntini qua figata ok vediamo un po i dati contenuti in quella memoria eh te pareva che diventavano migliaia e migliaia di spedizioni vai una bella domanda l'armata caronte era ben equipaggiata contro i vaganti ma nonostante ciò hanno fatto tutti una brutta fine e questo di sicuro non è di buon auspicio ok io però devo capire ancora come fare a cuocere a far bollire l'acqua allora non sto riuscendo a far bollire l'acqua quindi sto muorendo di sete e direi beh pazienza tanto siamo già qua nel campo base quindi chi se ne frega adesso sicuramente sarà un'altra cavolata che mi impedisce di farlo però vabbè vedremo poi più avanti figlioli e così sofferenti io vi saluto grazie di aver guardato questo diciamo tra virgolette terzo ma primo episodio dove di fatto stiamo giocando realmente mi raccomando lasciate un like e noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao a tutti